oh buongiorno ragazzi arrivo vado a girare solo due luci di qua perché sennò siamo al buio ok allora oggi mi è arrivato un pacco ci siamo un piccolo box e le forbici allora com'è tutto bene il tempo andrà a migliorare adesso dalla cina quando si compra su all'est loro decidono di fare tutto un pacco proviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pacchi e 7 spedizioni ma iniziamo iniziamolo questa scavola si sentite urlare mia nipote se non sbaglio queste che su amazon costavano fucilata allora queste qui su amazon costano la bellezza di 15 euro io la trovate a 3 euro e 72 praticamente questo qua si toglie il tappo del lavandino si mette se non sbaglio questo qui qui da qualche parte poi si posiziona sopra e come funziona perché entra la funzione del tappo adesso questo qui è così vedete e l'acqua scorre una volta schiacciato l'acqua termina di passare mi ho presi due ho schiacciato pochettino ok e questi sono arrivati poi andrò sul sito di aliexpress e metterò consegnato e poi recensioni del caso ok qua abbiamo due fresette queste qua servono quando uno fa i fori nel legno per fare in modo che la la vita rimane a raso con questo qui si fa un piccolo foro e la vite rimane a raso da questo qui si fa un piccolo foro e andrò non dovrebbe essere altri di qua no tre sì altità 1 2 e 3 perché qua sono decisamente bene poi abbiamo questo qua lo abbiamo citato vediamo che cosa sia questi qua dovevano essere praticamente e quando voi mettete le viti e non volete far vedere le viti questi qua sono dei coperchi però secondo me sono troppo piccoli continuiamo con un piole di bassi dovevo sistemare lo schermo ok ci siete ha la cover per il telefono presa vediamo pochettino il mio real minotto bella il tessuto vediamo pochettino come si presenta spettacolo questo qua è tipo tessuto tipo l'alcantara che fa quell'effetto contento vedo poco l'aspetto però va bene qua abbiamo anche le viti toge qua sono un po' più grandi questi qua mi ha azzeccati gli attacchi per la GoPro dice che ho preso l'alcantara che servivano e sono arrivati attacco 3m ancora migliori voilà sono molto contento avete messo a vedere ci sono piatti che questi qua curvi da attaccare sul vasco e questi piatti vedete che è l'alcantara che servivano è un po' più contento ok buono e l'ultimo è un po' di tortaccio questa è una cosa che su amazon costano costano 10 euro l'una invece qua le ho presi credo che 10 euro non so però ne avevo chiesto queste 3 e ne ho preso 2 non so ah ne ho preso 72 e bello di teste che oltre ad essere della DJI e penso originale Mavic all'interno sono morbide cioè voi qualsiasi cosa ci mettete mettete non si lo vedono sono contento infatti così almeno ci possono mettere da una parte il drone un altro telecomando e così via dall'altra parte delle batterie sono contento del mio unboxing mi è arrivata tanta roba e niente statemi bene e alla prossima ciao 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 ciao